Grazie mille Ricky on PC per questo bellissimo regalo, abbraccio dell'orso Mi raccomando se volete essere salutati anche voi, abbonatevi o shoppate con il coge Supporto un produttore coding gamer 572 Perché oggi andiamo a salutare anche un nuovissimo abbonato Quindi grazie Darkestuckisgood, quindi come dicevi questo skin lo vediamo ora Dovrete fare esattamente queste cose, andare sulla vostra playstation Quindi andare a cercare fortnite e riscattare il pacchetto Quindi in questo modo ci vedrete un pacchetto screen gratis, ovvero questo Forse ci sarà un modo anche di riscattarla sugli altri dispositivi Che è per questo che in questo momento devi andarti ad iscriverti attivando la campanellina E lascia un bel like ora se vuoi ricevere questa skin Appunto come se fosse gratis, come se avreste tantissimi WBAC Oh, cose che non mi credo, eccola qui